siamo in canvood elettronics italia con alberto petroni program manager gbl vediamo i nuovi sistemi on bit due modelli bianco e nero differenziati per la presenza del modulo wifi all'interno dell'on bit air quindi wifi vuol dire anche airplay e streaming alberto cosa ci dici in più di questi due modelli diciamo stato un po una pietra miliare la serie on bit perché prima nella versione classica diciamo così è stata la prima docky station in assoluto jbl ad essere compatibile anche con con ipad quindi parlando appunto del dell'on bit nella sua versione base notiamo innanzitutto la compatibilità con con l'ipad con iphone quindi chiaramente tutti i dispositivi tutti i dispositivi apple la cosa diciamo innovativa con cui molto comoda che quando utilizziamo un iphone un ipod touch possiamo anche andare a ruotare la docking quindi per una miglior visualizzazione dei dei filmati questo non è possibile invece quando andiamo utilizzare l'ipad proprio perché le dimensioni sono comunque compatti quindi si avrebbero problemi di stabilità di equilibrio si tratta di una docking station classica quindi chiaramente ricarica il nostro dispositivo e va a riprodurre la musica alcune chicche che solitamente non vengono evidenziate notiamo anche la presenza di un'uscita video quindi io posso collegare il mio la mia docking station a un display e quindi andare a visualizzare i filmati caricati sul mio sul mio ipad sul mio iphone direttamente su un su un televisore chiaramente i punti di forza sono i classici jbl quindi qualità sonora decisamente elevata per dimensioni per un prodotto di queste dimensioni e comunque un posizionamento assolutamente centrato in questo caso parliamo di 179 euro e sicuramente il design perché questi abbiamo il degno rappresentante della nuova linea weave quindi questo design ad onda d'incrocio che jbl sta portando avanti sicuramente lo rende riconoscibile questa invece la versione dotata di wifi quindi tecnologia airplay come design assolutamente identico ma in questo caso abbiamo appunto la funzionalità airplay per connettersi per ascoltare la musica direttamente streaming appunto dai dispositivi apple ma non solo in quanto qualsiasi pc con installato itunes può mandare musica in streaming questa funzionalità evidenziata anche da questa questa sorta di adesivo quindi anche sul punto vendita rende immediatamente riconoscibile la presenza di questa questa funzione abbiamo qui un pulsante in più quindi con un led indicatore di status che mi aiuta nella configurazione appunto della rete wifi non essendoci un display chiaramente tutta la procedura di setup viene effettuata attraverso un apposito sito sito web in maniera davvero molto molto semplice sostanzialmente automatica il prezzo di questo modello 249 euro 249 euro ok quindi on bit e on bit air liscia e con airplay per chi appunto vuole vuole anche usufruire del trasferimento wireless della musica dal proprio iphone o dal proprio ipad o anche da un computer con itunes verso una docking grazie mille